e ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video unboxing diciamo dove vi vorrei dire meno male alcuni acquisti come è già successo infatti all'outlet principalmente all'outlet di saravalle dove c'erano un po di offerte tutto e quindi alcuni prodotti e tutto quanto ovviamente non per i venderli ma perché rambelli e tutto quanto e comunque hanno meno male un valore soprattutto per queste due boutique questi due brand se due case della moda diciamo e che dire adesso vi mostrerò per l'appunto non c'è tutto quello che abbiamo preso perché ci sono alcune cose versace ma non già un regalo di natale in anticipo e mi ragazzo già presi che veramente andranno a natale quindi tra un po di mesi adesso poi non so voi quando vedete il video però non sono a posto già impacchettati diciamo e che dire ragazzi iniziamo subito dalle cose magari meno interessanti dove abbiamo però appunto questa fantastica bossina di yamamai con la bossina di portofino carina in realtà dovete dove abbiamo mutande e c'era un'offerta per sei paia di mutande sfuse a pochissimo e anche tre pacchi di queste vedete una due e la terza questa che la terza quella che ho già provato un paio e si convenivano tantissimo perché tre pacchi a tipo 20 se non ricordo male un pacco ne ha tre e un pacco ai tempi dall'etichetta che c'è sopra come vedete anzi vi faccio anche vedere costava 15 quindi tre pacchi queste 9 9 mutande alla fine 20 quasi il prezzo che costava un pacco da tre quindi non male mentre questa stessa roba ed erano comunque 66 slip sfusi quindi non male anche in questo in questo caso in realtà costavano meno addirittura quelli di ronaldo di cr7 per l'appunto intanto mettiamole da parte che quelle sfuse di diamamai vediamo se mi va bene perché ho avuto un po la sfortuna levo già prese sempre con offerte del genere ma iniziamo tutto un po strappare tutto quanto ma tralasciamo poi andiamo con tommy figure troppo via non la di che ma semplicemente una cintura base cintura carina volete già segnata qui la persona che mi ha messa via ma l'intanto è una cintura che ho preso principalmente per il lavoro anzi che ho preso per il lavoro visto che mi sono sempre sminchiate le cinture dopo poco come vedete questo colorito vediamo se dura in questo caso non si è fatta pagare poco leggermente però più alta rispetto a quelle che prendevo di solito per il lavoro se vedo che si sminchia subito anche questa che di marca diciamo andrò su cinesate tra virgolette tipo la primar quella roba lì che penso che costino 5 euro tra virgolette almeno anche se si spaccano dopo tre mesi ma e quali si spacca dopo sei siamo lo stesso livello diciamo e vedremo vedremo un attimino ecco divertente che tommy figure americani e tutto quanto cintura made in romania perfetto e va bene sempre a tema cintura ragazzi siamo fendi questo è un aspetto che duri tra virgolette interna anche se ha una bella furbata che adesso vi spiego sacchettino pendi contenitore fendi per l'appunto e abbiamo qua ragazzi sempre una cintura che aspettate che ci sono tutti i codici mica codici questo non so perché ha protetto abbiamo cintura del monster ragazzi di fendi cosa bella di questa cintura che double face dubble fase quindi uno la gira nero grigio molto molto bella e molto particolare tra cui la clip per accorciarla visto che taglia unica la cintura poi come ormai si è capito come ho già anche più detto sono malato della collaborazione diciamo dell'idea monster su che hanno fatto con fendi cosa che mi ha detto che adesso finirà anzi già finita in realtà nelle boutique quindi dove la trovo bene o male mi come ne prende l'ha visto che però appunto è finita molto bella cintura per uscire diciamo un po anche per le occasioni speciali per l'appunto si sente da un lato che è un altro tipo di pelle se volete adesso scusate ma la sto ripiegando un attimino in modo abbastanza adeguato se volete vi leggo anche cintura 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 aggiustabile reversibile vitello i berti vitell elite occhi mostro denti non c'è scritto anche se volete dire però sia morto di morte naturale ma ne dubito mentre qua non so cosa c'è ma penso sia lì l'etichetta sì nella sua etichetta che hanno meno male protetto mettiamola al suo posto forse nel suo sacchettino bella poi che comunque ha due colori per l'appunto double paste ho visto un'altra da Gucci ne avevo vista ma non c'era la mia taglia quindi poi dopo ho visto che ce la se hai detto ma se ne ho su Fendi e invece su Gucci ragazzi abbiamo questi due prodotti dove me li hanno imbustinati come vedete uno nella bustina di Gucci 100 oltretutto avevo una gift card che mi hanno regalato al lavoro visto che ho cambiato luogo diciamo di lavoro e quindi per l'appunto anche siamo andati a Saravalle visto che è di Saravalle oltretutto abbiamo avuto anche questo guest lounge di Saravalle ma non abbiamo avuto occasione di andarci quindi ci andremo la prossima volta spero che credo che la prossima volta sarà tra un po' di tempo giustamente che non ce l'abbiamo dietro l'angolo e come vedete allora sacchettino Gucci 100 molto carino questo di Gucci 100 al momento non ho preso nulla ma invece ho trovato questa maglietta che volevo in realtà trovarne una di quelle classiche ma non ne avevano ho preso questa maglietta di Gucci lemon con la scritta non in rilievo quindi in teoria non si rovina vedete Gucci tutto quanto carina con il limone sotto scritta Gucci e lemon al contrario molto carina costava niente alla fine una maglietta carina non dico da usare tutti i giorni ma da usare anche con un po' più di tranquillità ci può stare diciamo tutto questo qua tessuto e tutto quanto e infine ragazzi intanto questa la mettiamo qui sopra infine ragazzi in questa confezione mi ricorda quella dell'altra volta non è un gioiello ma abbiamo guardate qua che packaging non so se è il suo corretto non saprei dirvelo ma abbiamo un portafoglio visto che ai tempi già dicevo sì mi piacerebbe sì mi piacerebbe è questo qua con le api di Gucci sarebbe stato bello se c'era quelleoni ma non c'era scritta Gucci e l'ho preso perché questo qua rispetto agli altri ha portamonete cosa che cercavo sempre nei portafogli cosa che non c'era quasi mai e questo lo aveva quindi quando ho visto questo aveva portamonete ho detto ma sì dai ci sta come vedete scritta Gucci Gucci qua made in Italy mi hanno detto che è bello resistente vedremo adesso farò change col mio che era uno di Tommy Figger anche quello molto bello stava tenendo tutto quanto vedremo anche questo se effettivamente terrà e che dire ragazzi con questo ultimo oggetto il video direi che si può concludere quindi spero che questo video vi sia piaciuto e come al solito vi ricordo lasciare un bel mi piace qua sotto a questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto commentate con qualche suggerimento se anche a voi vi piacciono che prodotti ci sono cosa suggerite che magari avete visto anche voi negli out e quant'altro poi vi ricordo di condividere il video per l'appunto così anche gli altri vi danno tutte queste fantastiche cose leggere la descrizione con tutte le cose che vi lascio scritte è tutto e noi ci vediamo ragazzi alla prossima con un altro video io vi saluto e ciao ciao